ecco alcune regole per tornare al lavoro in sicurezza quando esci a casa misurati la temperatura sei più di 37 5 non andare al lavoro se utilizzi l'autobus o il treno per muoverti ricorda di indossare la mascherina usare i posti assegnati e di seguire i percorsi indicati al lavoro prima di entrare ricordati di indossare la mascherina specialmente se lavori con il pubblico e igienizza le mani con il prodotto che troverai all'ingresso mantieni la distanza di un metro dai tuoi colleghi segui le indicazioni che ti darà il tuo datore di lavoro quando torni anche al ritorno indossa la mascherina e ricorda le regole per autobus e treno quando rientri in casa per prima cosa lava molto bene le mani e igienizzale con un prodotto adatto in generale dentro e fuori casa ricordati di non toccarti occhi naso e bocca dobbiamo ancora convivere con il coronavirus ma possiamo difenderci e proteggere chi ci sta vicino per la prima cosa è un'unico